Bressi, la damascatura a rilievo. Delicato, raffinato, un effetto da accarezzare. Applicare con un frattazzo in acciaio inox o rullo a pelo raso uno strato sottile di DecorDeck precedentemente colorato. Per dare l'effetto tono su tono, usare lo stesso DecorDeck utilizzato per la prima mano. Per marcare maggiormente l'effetto, scurirlo con lo stesso tinter precedentemente utilizzato. Su fondo asciutto, applicare con una spugna marina piccole e sottili chiazze di DecorDeck a distanza e di misure irregolari. Dopo 15-20 minuti, spatolare la parete con poca pressione per lisciare delicatamente il prodotto a rilievo. Per rendere ancora più ricche le pareti decorate con l'effetto Bressi, è possibile applicare su tutta la superficie una o più passate di vele, vele Silver & Gold SK o Shade L. In questo modo, la finitura risulterà annuvolata, satinata o prestigiosamente argentata o dorata. I riflessi metallici e perlati arricchiranno le pareti per uniche ed irripetibili emozioni di design e colori. I riflessi metallici e perlati arricchiranno le pareti per uniche edificio. I riflessi metallici e perlati arricchiranno le pareti per uniche edificio. I riflessi metallici e perlati arricchiranno le pareti per uniche edificio. I riflessi metallici e perlati arricchiranno le pareti per uniche edificio. Grazie a tutti.